Un omaggio al Consorzio Agrario e alla sua Siena, con otto tavole inedite, oltre a quella già realizzata per il centenario del 2001. E' quello che ha voluto fare il vignettista Emilio Giannelli. Vignette irriverenti, sarcastiche, contrassegnate dall'inconfondibile tratto che lo ha reso uno dei più celebri vignettisti italiani, che abbracciano tradizione e attualità e ripercorrono la storia di Siena dal palio ai giorni nostri, con la statua di Saluscio Bandini che porge le spalle al Monte dei Paschi per guardare la sede del Consorzio, e le caricature del sindaco Bruno Valentini insieme al patron di Italy, Oscar Farinetti. Nove tavole che tutti potranno ammirare nel negozio del Consorzio Agrario in via Pianigiani. Ha disegnato quello che è il territorio sienese, diciamo, riportato il Consorzio Agrario in quello che è forse una satira sulla città di Siena, fotografando cosa rappresenta forse il Consorzio dal 1901 ad oggi in questa città. e lo ha fatto anche, diciamo, partendo da quello che è il palio, no, con il carroccio trainato da un trattore al posto dei Bovi, come si dice, oppure la statua di Sallustio Bandini, arrivare fino al 2014, dove vediamo Farinetti con il sindaco, e la frase è molto bella, perché, ma che it Italy, dice, in fin dei conti c'è il Consorzio Agrario, che probabilmente nel Made in Italy rappresenta molto di più di Italy. E quindi, grazie a Giannelli, è stato veramente bravo a fotografare questa cosa con queste otto vignette. Ecco, quindi, lo ringraziamo, ma, diciamo, ci fa anche onore, ci dà anche, in un momento particolare come questo, quando entreranno nei nostri negozi, guardando queste vignette, sarà anche il momento per avere un sorriso, ma in un momento di crisi come questo, per dare anche un messaggio positivo alla clientela, alla struttura e a tutta la città. La presentazione alla città delle vignette è stata anche l'occasione per parlare di numeri, quelli del bilancio 2013 del Consorzio, approvato questa mattina. Stato di saluto del Consorzio Agrario, si esce con un bilancio ancora negativo, e quindi, diciamo, è ancora leggermente febbricitante, ma diciamo che, con soddisfazione, possiamo dire che sembra che la febbre stia passando e non che stia arrivando, perché il risultato è molto migliore di quello dell'anno scorso, soprattutto il risultato di gestione è triplicato rispetto, infatti, l'Ebidda chiude a oltre 1.400.000 euro di attivo e naturalmente le poste degli ammortamenti e poi successivamente qualche altra posizione finanziaria impediscono al Consorzio di vedere ancora l'utile, ma sicuramente è un bilancio che prospetticamente rappresenta qualche cosa di migliorato rispetto a quello che si era fatto l'anno scorso e gli anni scorsi soprattutto.